Ciao a tutti ragazzi qui come sempre il vostro ore e benvenuti in questa nuova recensione, oggi abbiamo una bella bombetta, abbiamo Devil Jin direttamente da Tekken 7 o comunque da Tekken 3 anche perché più o meno è lo stesso aspetto per la linea Storm Collectibles, questa azienda che produce queste figure per la maggior parte tratte da picchiaduro e in questo caso ragazzi abbiamo un personaggione tra l'altro una forma veramente incredibile o sempre adorata Questa qui è la confezione come potete vedere molto figa con tutte le stampe delle immagini della figure ma direi di non perdere l'altro tempo potete trovare questa figure sul mio sito Rush Shop in qui sotto in descrizione oppure anche sul mio Vinted trovate sempre tutto qui sotto in descrizione ma andiamolo a vedere fuori dalla confezione Ed eccolo qua il nostro Devil Jin andiamo a vedere subito gli accessori di cui è dotato Cominciamo con questo ragazzi è semplicissimo come dico sempre un pezzo di cartone incluso nella confezione che però fa da sfondo per un'eventuale esposizione quindi è veramente una chicca Poi abbiamo mani intercambiabili eccole qua ve le zoom un attimo perché c'è da vedere il dettaglio perché sono fatte veramente bene ragazzi guardate qua che spettacolo la pittura sull'armatura piena di dettagli già solo le mani Poi abbiamo queste altre due qui vedete con le due dita alzate in questo modo qui fighissime e poi abbiamo queste qui invece a palmo aperto in questo modo qui con gli artigli bomba Poi teste intercambiabili questa qui a denti stretti si può vedere il viso di Jin fatto veramente bene con i ciuffi che gli vanno davanti agli occhi le corna e poi tutti i seni che ha in faccia ragazzi veramente spettacolare Poi abbiamo questo che non può mancare viso urlante eccolo qui fatto anche questo molto bene gli occhi come vedete hanno un painting dorato spettacolo anche qui corna fatte benissimo e tutto il resto E adesso vediamo il nostro Devil Jin più nel dettaglio questo è il viso basico e dotato serio senza espressione praticamente anche questo veramente ben realizzato in ogni dettaglio le corna tra l'altro sono in plastica morbida quindi non c'è il rischio che si rompano Vediamo il resto dei dettagli sul corpo il corpo è fatto molto bene questa è plastica morbida ragazzi perché ci sono delle articolazioni interne poi vedremo Fatto veramente bene anche questo vediamo tutti i tatuaggi le venature sul braccio il classico tatuaggio iconico di Jin catena qui sul bicipite i guanti fighissimi Tra l'altro si può fare questa cosa qui ovvero si possono rimuovere volendo questi guantoni figata questa rimettendo a posto la mano vediamo il resto dei dettagli alle gambe abbiamo la catena sulla sulla cintura fatta veramente bene anche la cintura sottostante painting ottimo Qui vediamo un pezzetto di catena svolazzante anche qui i pantaloni sono perfetti ragazzi fantastici con questa fiamma in rilievo con i bordi dorati veramente fighissimo le catene qui sulla parte fine della gamba e poi abbiamo le scarpe una rossa con le borchie e una nera proprio come deve essere E poi vediamo le ali che sono fatte molto bene sono molto grandi e sono anche articolate nonché tutte sfumate ragazzi bellissime veramente Dezoomiamo ecco qua apertura all'area veramente top e andiamo a vedere le articolazioni del nostro Jin testa può guardare molto bene verso l'alto può guardare anche verso il basso può volersi lateralmente può ruotare ovviamente Braccia si possono aprire chiaramente rotazione a 360 gradi butterfly joint in avanti e indietro rotazione al bicipite articolazione doppia qui al gomito rotazione al polso piegamento al polso poi abbiamo il busto che può piegarsi in questo modo alla vita però può piegarsi anche qui volendo questa è un'articazione molto particolare non è bellissima da vedere però è figo che ci sia perché il movimento lo fa e riesce anche a reggere non è bellissima ripeto però è molto figa In teoria potrebbe farlo anche all'indietro e leggermente di lato chiaramente alla vita c'è un bel movimento anche di lato rotazione alla vita piegamento della gamba in avanti piegamento all'indietro questo anche plastica morbida quindi non limita le articolazioni l'apertura delle gambe massima rotazione la parte superiore piegamento doppio al ginocchio piegamento del piede in su questo molto limitato praticamente inesistente piegamento in giù un po meglio piegamento alla punta del piede rotazione e rotazione laterale della caviglia leggera le ali come vi ho detto sono articolate possono andare su e giù all'indietro e poi questa parte vedete si può ripiegare in questo modo qui ecco qua spettacolo e si va a misurare l'altezza il nostro Devil Jin è alto praticamente 20 cm quindi siamo sugli 8 pollici eccolo qui accanto a una SH Figures sembra quasi alto il doppio accanto a una Marvel Legends molto più alto ed eccolo accanto al Monezza Spider-Man e al Batman McFarlane Scala più o meno simile ed eccolo qui in tutto il suo splendore sulla basetta rotante devo dire che è veramente una bella figure diamo i voti accessori devo dire un 8 pieno ci sta 6 mani 2 teste ci sta tutto peccato che non ha una basetta sarebbe stata il top Per quanto riguarda le articolazioni ragazzi sono ottime davvero mi aspettavo qualcosina di più sui piedi magari però per il resto veramente può assumere qualsiasi posa e mi sento di dare un bel 9 per quanto riguarda l'estetica ragazzi è pazzesco veramente sembra uscito direttamente dal videogame la qualità poi Storm Collectibles è veramente una garanzia le ali mi piacciono molto mi sono state realizzate i visi sono fatti molto bene tutto il resto davvero ottimo C'è anche painting sulla carnagione quindi veramente top do un 9 pieno anche qui la figure ragazzi è da 9 la figura è assolutamente da 9 pieno è veramente un'ottima figure davvero impressionante complimenti a Storm Collectibles ma si sapeva che appunto è garanzia veramente di qualità Fatemi sapere cosa ne pensate di questo Devil Jin con un commento qui sotto fatemi sapere se vi piace il picchiaduro Tekken o preferite magari Mortal Kombat o Street Fighter Il like al video è sempre rietissimo così come anche la condivisione e noi ci vediamo alla prossima ciao Dara da Devil Jin e collezionate sempre